Se un bambino sorride, se un adulto sorride, questo è molto importante. Se nelle nostre vite quotidiane siamo capaci di sorridere non solo noi ma tutti, ne troveranno profitto. Se sappiamo davvero come vivere, quale modo migliore di iniziare una giornata di un sorriso? I nostri sorrisi affermano la nostra consapevolezza e determinazione di vivere in pace gioiosamente. La sorgente di un vero sorriso è una mente risvegliata.